Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi vi spiego come trovare questa magnifica katana, fiume di sangue, spleneta, spettacolare dove puoi vincere ogni scontro al duello Sì sì sì, puoi vincere, puoi vincere se le porti tutte e due al dieci Quindi molto semplice, per arrivare in questo posto bisogna prima fare una cosa riguardo alla storia, quindi uccidere Morgit, scendere giù, aprire quella grande porta e ritrovarvi lì all'ascensore E una volta raggiunto questo posto andate alle terre proibite, andate al montacarichi, questo montacarichi vi porterà qua sopra Quindi una volta raggiunto le montagne, proseguite da questa parte, proseguendo questo grande ponte Attenzione anche al gigante che lancia la freccia là, sì all'arcere Poi una volta raggiunto questi fiumi ghiacciati, vi ritroverete anche qua al grande castello E proseguite da questa parte su questo grande ponte di catene Ed eccoci arrivati, quindi molto semplice E adesso vi faccio vedere dove si trova questa katana È molto semplice, tanto basta anche uccidere un coglione che si ammazza in meno di 5 secondi Vabbè io l'ho ucciso con queste katane e ho fatto subito subito, non ci è voluto niente Fanno veramente un botto di danno perché l'abilità arriva fino a 4000 di danno È molto molto utile, è molto buona Ok, eccoci arrivati Quello è il posto, sì quella è la chiesa distrutta Come sappiamo noi abbiamo ucciso Anastasia all'inizio a quelle chiese di Marika E adesso uscirà fuori questo tizio con queste katane che ho io in mano Quindi una volta ucciso, come potete vedere, a terra ci sono veramente un sacco di macchie di sangue Un sacco di gente che è morta, che non è riuscito a sconvincere questo tizio e che non ci vuole niente E quindi niente, qui troverete la katana E se volete iniziare un secondo viaggio, ritornate qua Prendete anche la seconda katana e la potenziate al 10 Quindi grazie a tutti per questa visione Era un piccolo video, quindi una piccola guida Quindi lascia like se il video per te è stato utilissimo Iscriviti anche al canale e attiva la campanellina E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao